Accordi spezzati. Prendiamo quindi un accordo, dividiamolo in due o più parti e alterniamo queste parti tra di loro. Questa tecnica è molto utile perché crea movimento. Tutto il brano quindi gira attorno a questa tecnica, gli accordi spezzati. Esperimento numero uno. Prendiamo gli accordi spezzati di Imagine di John Lennon e proviamo ad utilizzarli in maniera diversa. In questo momento alterno le due note esterne del Do maggiore con la terza. Prima, quinta, terza. Il risultato è diverso. Possiamo anche utilizzare però delle posizioni a parti late. Per esempio il Do suonato in questo modo. Prima, quinta, terza, un'ottava sopra. Grazie a tutti.